Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale Assetto Corsa PC oggi ho deciso di condividere con voi questo video inedito registrato con il visore, l'Oculus CV1 e voglio dedicare questo contenuto a un caro amico che ho conosciuto grazie alle simulazioni Andrea Andrea, ce l'ho fatta a registrare questo video con il cuore è tutto per te buona visione Grazie a tutti 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 won't count so 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 the marshals are saying you cut the track so that lap won't count let's go Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima.